Hai goduto un po' di paradiso, ma zitta. E di fatti poi questo lei lo raccontò dopo la morte del padre. Vedete come gustava il Natale, padre Pio? E come il Signore glielo faceva gustare? Noi invece siamo pieni di distrazioni. Quanta distrazione! Pensiamo a tante altre cose. Come stiamo pensando? Cosa pensiamo? Ci stiamo preparando bene a quella notte? Cioè domani sera, il 24, domani notte, quando riavocheremo la nascita del bambino di Betlemme. Che la Madonna ci aiuti. Che la Madonna ci faccia anche a noi vivere un pochino di quel Natale. Sia lodato Gesù Cristo.